diversità, senza essere superiori o inferiori a nessuno, dalla Valcamonica al Salento, vogliono omogeneizzarci con lo stesso gusto, in sapore, in colore e in odore. A me piacciono i sapori, i colori e gli odori. Vogliono marmellatizzarci, senza anima, senza anima e senza il tempo di pensare. Quello che ci vogliono rubare è il tempo, perché se tu non sai come arrivare a fine mese, non sai se ce la fai a pagare il mutuo, devi decidere se suicidarti o no e devi capire come riuscire a mandare tuo figlio a scuola e passi 22 ore al giorno a capire che futuro dare a tua moglie o a tuo marito, alla sera a casa non hai tempo, non hai tempo per pensare, non hai tempo per fare politica. Perché secondo me Grillo è pericoloso? Perché chi dice la politica è tutta una schifezza. Senza la politica ci sono le dittature, senza i comuni, senza le province, senza le regioni. C'è il pensiero unico, non siamo tutti uguali, ci sono politici bravi e politici ladri. Ci sono gli idraulici che fanno fattura e gli idraulici che non fanno fattura. Lascio a voi decidere chi fa bene o chi fa male nei confronti di uno Stato che rapina il 62% del prodotto di chiunque sia artigiano. Il pensiero, dobbiamo avere il tempo, la voglia e l'orgoglio di pensare. Io vi chiedo questo, nei 90 giorni che mancano alle elezioni europee, da stasera, siete Galileo Galilei, fuori di qua, avete però il vantaggio, abbiamo il vantaggio di dire la verità. Perché pensate che casino Renzi, che sa che sta pigliando per il culo gli italiani, ma deve far finta di fare il loro interesse. Pensate come si deve risintonizzare 18 volte al giorno per non ridere di fronte al governo che ha messo in piedi. Quando la Merkel lo chiama sei volte al giorno a chiedergli hai fatto quello che devi fare? No, no Angela, faccio veloce, faccio veloce, scusa, non ho ancora fatto in tempo. Pensate che vita, che brutta vita sto tizio che cammina sulle acque e guarisce gli ammalati, però è una brutta vita. Noi abbiamo il vantaggio di avere ragione, però siamo eretici. La terra è ferma ed è il sole che gira intorno alla terra. L'euro non si discute. Hai chiuso? Fa niente, sei uno sfigato, tu non avevi voglia di lavorare. Non è colpa dell'euro perché l'euro va bene, non si tocca. Non siamo soli, ci sono i francesi, ci sono gli austriaci, ci sono gli olandesi, ci sono gli svedesi, ci sono i finlandesi e la prossima volta se ci rimandate a Bruxelles gli facciamo un mazzo così che al confronto le contestazioni dell'ultima volta saranno all'acqua di rose. Non so come si traduca in lingua dei segni un mazzo così, però penso che possa essere comprensibile ai più. L'Europa annienta le diversità e oggi sono le diversità economiche ma domani sono le disabilità perché il disabile non produce, produce di meno. Io sono terrorizzato quando mi confronto con degli esponenti di sinistra, l'ultimo dei quali settimana scorsa tal Scalfarotto, che mi diceva che mi parlava solo di mercato e di consumatori. Salvini non puoi discutere l'euro perché l'Europa è un mercato di 400 milioni di consumatori, detto da sinistra. Io non sono un consumatore ma sono un essere umano e non me ne fotte niente del mercato perché se il mercato ammazza la mia economia, la mia agricoltura, la mia pesca, il mio artigianato, se il mercato dice che il non vedente non mi serve, sta a casa, forse gli do 200 euro al mese, anzi fra un po' magari tagliamo anche un po' le pensioni di accompagnamento, gli assegni di accompagnamento perché questi 268 euro al mese sono un po' troppi perché il disabile non produce per il mercato. E poi se devo scegliere magari il disabile polacco mi costa meno rispetto al disabile italiano. Ci arriviamo, ci arriviamo. La gente che ragiona e lavora solo nell'ottica del profitto del denaro e del mercato è gente pericolosa, è gente che vende sua madre per 10 in più. Noi dobbiamo difendere il nostro modo di lavorare, di vivere, di essere diversi nella fortuna e nella sfortuna, senza negare tutti i problemi dell'Italia. Attenzione! Non è che facciamo la battaglia basta euro e poi l'Italia va bene così com'è. In Italia c'è la mafia, c'è la camorra, c'è l'andrangheta, ci sono centinaia di migliaia di forestali falsi, falsi invalidi, truffe alle assicurazioni, spreco della pubblica amministrazione, il triplo dei dipendenti pubblici nei comuni del sud rispetto ai comuni del nord, il triplo di evasione fiscale nei comuni del sud rispetto ai comuni del nord, tutto vero. Però ci sta crollando il tetto sopra la testa. Quindi prima devo puntellare il tetto, scuillato, 19 minuti, quindi devo andare a concludere. Prima devo puntellare il tetto sulla testa. Il tetto si chiama, veramente, io penso che neanche Hitler e Stalin a pranzo insieme sarebbero riusciti a inventare un meccanismo così diabolicamente, genialmente strutturato come l'Europa della pace, dei popoli, del mercato, dei diritti. Ci stanno rubando uno per uno tutti i diritti, lo sentivo dal lavoratore della Invernizzi. Ci stanno portando al ribasso. 100 euro in meno se vuoi lavorare, se no vanno in Polonia. 6 euro all'ora se vuoi lavorare in una cooperativa, se no ne trovo 20 che ne prendono 5 di euro all'ora. E poi togliamo un po' di assistenza ospedaliera, poi abbassiamo ancora un po' le pensioni. Poi perché andare in pensione 70 anni, insomma, 80, 85? Il mercato ha bisogno di giovanotti di 85 anni che continuino a lavorare occupando posti di lavoro per quei 25 anni che poi aspettano i 60 per cominciare a lavorare. È un progetto di omogeneizzazione. L'Italia e il Nord in particolare devono diventare solo un supermercato dove voi siete liberi di decidere che tipo di yogurt comprare, che tipo di scarpe da tennis comprare, non prodotte in Italia. L'importante è che non siano prodotte in Italia. Ovunque ma non in Italia. Così non c'è lavoro, non c'è futuro, non c'è dignità, non c'è speranza. Ce ne siamo accorti per tempo. Nel libricino datelo, non datelo ai leghisti, vi chiedo solo questo. Non mettete in mano questi strumenti di verità e di controinformazione a chi ha già capito. Datelo in mano a chi magari in buona fede sono decine e milioni di persone. Eh ma non si può. Il Tg1 mi dice che non si può. Il Tg1 dice che se esco dall'euro mi rubano la macchina e quindi non esco dall'euro. Il Tg1 dice che mi portano via la casa in montagna che mi hanno comprato i genitori. Il Tg1 dice che far benzina costerà 37 euro al litro. Quindi magari avete ragione, però non si può perché il Corriere dice che il governo Renzi è una figata. Perché il sole 24 ore era quello che titolava Fate presto quando ha aperto la strada a Monti. È già uno che titola Fate presto e poi arriva a Monti dovrebbe chiudere la testata e scapparsene per la vergogna perché non c'è altro da dire. Chiudo con l'invito a essere una comunità che resiste. Abbiamo un vantaggio rispetto agli altri. Abbiamo capito. Mille persone qua dentro e 10.000 alla radio e 10.000 collegate via internet e tutte le altre che incontreremo nelle tappe dopo questa a Torino, a Genova, a Reggio Emilia, a Padova, a Bergamo, a Udine, a Roma. Dobbiamo essere moltiplicatori. Dobbiamo essere tanti Tg1 che parlano di quello che c'è scritto nel libretto sull'autobus imposta dal panettiere. Dobbiamo contagiare. Il 25 maggio non ci sono elezioni. Il 25 maggio c'è un referendum o si vive o si muore. Non c'è la via di mezzo. Il 25 maggio non c'è il simbolo della Lega sulla scheda elettorale. Il 25 maggio o l'Europa va avanti così e andiamo a morire nel mercato dei consumatori e degli yogurt scaduti oppure riprendiamo orgoglio, sorriso, speranza, futuro, forza, lavoro. È un referendum. Tutti gli altri partiti la pensano in una maniera sull'Euro. C'è un movimento di matti, di folli, di sognatori, di rompipalle. Hanno provato a farci fuori e non ci sono riusciti. Siamo qua. Siamo più vivi e forti di prima. Diamoci una mano. Io non abiuro. Il rischio è il rogo. Se io penso di aver ragione o ho ragione io vado sul rogo. Non striscio, non sopravvivo, non tiro a campare, non abiuro. E quindi se ci diamo una mano, se ci date una mano ci prenderemo delle grandi soddisfazioni. La più grande soddisfazione è quando avremo vinto perché l'enorme bugia, questa bugia nazi comunista dell'Euro, delle banche, del mercato, della finanza, dello spread e non si tocca. E se lo dite siete xenofobi, euroscettici, brutti, cattivi e puzzolenti e non vi lavate i denti. Abbiamo ragione. Abbiamo ragione. La più grande soddisfazione sarà appunto andare al Tg1. Siccome quando vinceremo perché abbia ragione, al Tg1 in 12 ore gli eretici saranno gli altri. E quindi ad abbiurare... Noi l'abbiamo sempre detto. Noi al Corriere della Sera abbiamo sempre sostenuto che fosse la terra a girare intorno al sole perché era evidente che era la terra. Noi sempre abbiamo detto che l'Euro era una cazzata. Sì, abbiamo fatto 618 articoli di fondo dicendo il contrario, però per distrarre un po', per calmare le acque, siamo in battaglia. Comincia con oggi, per quanto mi riguarda, la lunga marcia di Mao che da una disfatta totale trasformò in sconfitta per gli altri quella che diventò la sua vittoria perché invece di arretrare, di arretrare, di arretrare, decise. Sai cosa c'è? Siamo rimasti in 50.000. Se andiamo avanti ad arretrare domani saremo 40.000, 30.000, 20.000, siamo finiti. Invece di andare a sud, andiamo a nord, andiamo verso il nemico. Invece di arretrare, giochiamocela. Siamo in 50.000, non siamo in 5. Abbiamo ragione. Sono andati verso il Giappone e gli hanno fatto un mazzo così. Ed è cominciato quello che è cominciato. Al di là delle ideologie non mi interessa, però la storia insegna che quando arretri per difendere il poco che ti è rimasto sei finito. Quando ti è rimasto poco, ma hai le palle, hai voglia di lavorare, hai coraggio, devi andare all'attacco. Non devi scappare verso sud, devi correre verso nord e riprenderti il tuo futuro. Quindi se stiamo insieme ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Io vi saluto, vi ringrazio, portate via tutto il materiale che c'è qua e datelo anche nei posti più impensati. Su Facebook mi scrive la gente più impensata, più lontana dalla Lega. La soddisfazione più grande è quando mi scrivono che sono preoccupato perché mai nella vita avrei pensato di dare ragione a un leghista. E sono le cose più belle, perché in Italia abbiamo le tifoserie destra, sinistra, Milan, Inter. Puoi dire le cose giuste ma se hai l'etichetta sbagliata invece stiamo sfondando questo muro. Quindi al di là della Lega è una battaglia di civiltà, di onestà, di verità, di lavoro, di speranza. Quindi la cosa più bella è che andate nei posti più impensabili, magari non nel corteo Notav che sta passando di qua perché secondo me non c'è un dibattito politico-economico sufficiente ancora sviluppato in quel contesto. Però andate ovunque per portare questa voce di verità e per quanto riguarda Renzi, il primo giornalista mi ha chiesto ma chi le fa venire in mente? Io quest'estate mi sono riletto e chiudo la fattoria degli animali e c'era il capo dei rivoluzionari che poi una volta vinta la rivoluzione un quarto d'ora dopo si è trasformato nel capo degli anti-rivoluzionari e dei massacratori degli ex-rivoluzionari, mi ha tanto quell'idea lì, lancia in resta e poi una volta arrivato a un minimo di potere, era un maiale e si chiamava Napoleon. Quindi non voglio con questo mancar di rispetto a nessuno, ci mancherebbe altro, però a passare da rivoluzionari a contro-rivoluzionari in un quarto d'ora la storia insegna nel nome del potere ci vuole poco. Grazie, viva la Lega e la vinciamo!